Io e lei ci siamo scelte, forse ci siamo sempre sentite un po' simili, pur sapendo poco l'una dell'altra, oppresse da chi prende decisioni al posto nostro, ma con la voglia di liberarci da quelle catene. Pensavo che il modo migliore per spezzarle fosse andarmene, ma non sempre si rivela la decisione giusta. Nel momento in cui ho provato a capire chi sono e da dove vengo, lei è accorsa in mio aiuto, raccontandomi la sua storia. Nonostante i segni del tempo, nonostante la memoria che con gli anni un po' vacilla, mi parla con dolcezza e un pizzico di nostalgia delle persone che ha conosciuto durante la sua vita. Mi parla dei cavalli, del rumore degli zoccoli che segnava l'inizio di una giornata di lavoro, dei contadini intenti a scaricare la merce dai carri per portarla al mercato. Mi parla delle preghiere che salivano alte al cielo, del fruscio degli abiti di tela dei confratelli e poi dello sfarzo, arrivato molto dopo, che ha sempre sentito un po' strano. Chiudo gli occhi e mi lascio cullare dai suoi ricordi. Non senti un legame con un luogo finché non ti allontani, finché non ti accorgi che le tue origini e tradizioni sono radicate così nel profondo dentro di te che nessun altro posto potrà mai essere davvero casa. Da spettatrice silenziosa e un po' distratta, ora riesco finalmente a viverli in prima persona, a farli miei. E proprio in quel preciso momento, quando le nostre esperienze e memorie si fondono in un tutt'uno, sento quel senso di calore che tanto ho cercato altrove e che non ho mai trovato, capendo finalmente di esserle sempre appartenuta. Grazie a tutti.